Si amplia e si arricchisce di vantaggi e opportunità il piano dell'Università degli Studi del Molise, avviato per accompagnare la ripresa delle attività accademiche e incrementare al contempo iniziative politiche a sostegno del diritto allo studio in un contesto economico territoriale di per sé fragile, aggravato dall'emergenza epidemiologica. Un piano che ha posto al centro di tutti gli interventi la comunità studentesca insieme alle famiglie, la didattica in sicurezza per tutti con aule e spazi nuovi riqualificati e funzionali e ancora il progetto Trasporti Gratis che consente di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto regionale e navette dedicate per raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea senza tralasciare il sostanziale e incremento delle agevolazioni ed esoneri legati alle condizioni economiche. E oggi a tutto questo si aggiunge un'ulteriore, utile e importante novità, il bonus acquisto di personal computer, notebook, tablet e modem. L'Università degli Studi del Molise rimborserà fino ad un massimo di 250 euro. Si tratta di un'occasione imperdibile che Unimol ha previsto per agevolare l'acquisto dei dispositivi digitali necessari per mitigare criticità, facilitare la connettività e gli accessi ai servizi di rete e da remoto, attingere alle nuove forme di didattica telematica, superando in tal modo ostacoli e distanze e vivendo a pieno le abitudini tipiche della vita universitaria. I destinatari dell'intervento sono gli studenti regolarmente immatricolati nell'anno accademico 2020-2021, a corsi di laurea triennali magistrali anche a ciclo unico, in possesso di attestazione ISEE fino a 30.000 euro. Il bando e gli allegati, con tutte le informazioni utili in merito alle modalità di presentazione delle domande, le graduatorie e la documentazione da esibire, Grazie a tutti!